Sono contento, sono contento anche di ritirare questo premio a nome di Sirea, è un orgoglio, sono molto molto contento. Pisa Reduce dalla sconfitta con il Vicenza poteva andare molto meglio? Sì, poteva andare meglio per come era venuta fuori la partita, 11 contro 10. Ieri dissi che siamo passati dalle stelle alle stalle in 7-8 minuti. Siamo stati in genio, abbiamo commesso degli errori, ma non c'è tempo per recriminare. Adesso bisogna guardare avanti, mancano 12 partite, secondo me le partite saranno tutte così tirate.